Parlo io ma parlo a nome di tutto lo stabile. Io parlo per chiunque ci segue, io parlo per lo Stato che parla di aiuto ai giovani e di aiutare le giovani coppie. Qui siamo tutti ragazzi, siamo tutti ragazzi. La persona più grande ha sette bambine e non può andare per strada. Noi abbiamo bisogno di un tetto e di un lavoro sicuro perché non possiamo rimanere per strada. Noi non vogliamo andare via, noi abbiamo bisogno di un tetto. Oggi siamo usciti da qua ma siamo usciti solamente perché abbiamo fatto una lotta pacifica, perché siamo voluti essere pacifici. Ma se non abbiamo un tetto siamo pronti di nuovo a occupare delle case, a rientrare di nuovo nello stabile perché noi abbiamo bisogno di una casa dignitosa dove vivere perché non è possibile che non abbiamo nulla, non abbiamo un lavoro. La paura fa parte della vita perché è giusto avere paura ma la forza che dobbiamo avere interiore deve essere sempre più forte della paura perché abbiamo bisogno delle case.